Per Mediotel Radio abbiamo il piacere di intervistare Laura Innocenti, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a voi. Allora, qual è l'importanza di una manifestazione come il BTO in un momento in cui il turismo sta vivendo un momento interessante per ciò che riguarda l'innovazione tecnologica, soprattutto online? Beh, le due cose sono strettamente legate, nel senso il turismo sicuramente ha avuto una ripresa più veloce di tanti altri settori, anche grazie all'attenzione e alla capacità di ascoltare i cambiamenti tecnologici che il mercato metteva sulle nostre aziende e all'interno delle nostre aziende. BTO, che nasce proprio da due albergatori, che una sono io e l'altra Giancarlo Carniani, che vedevamo questi cambiamenti tecnologici e sapevamo che Schilly Cavalcava per primo poteva riuscire a far crescere le proprie aziende e quindi anche il proprio settore. Nasce la BTO proprio per questo, otto anni fa, cioè proprio per dire, ok, la tecnologia c'è, avanza velocemente, le aziende devono saperla riconoscere e sfruttare al meglio e non farsi soffocare. BTO nacque per questo otto anni fa e ancora oggi fa questo. Qui dentro ogni anno cerchiamo di portare tutta l'innovazione tecnologica e di format di business che c'è nel settore del turismo. Qui viene spiegata, qui ci sono le aziende che presentano i prodotti per risolvere i problemi che generalmente vengono raccontati sopra i palchi. Quindi questo grande mercato di informazioni e di tecnologia è il successo della BTO che oggi vede qui già dentro la BTO 6.000 persone. Come vede il futuro del turismo in Italia? Direi lo vedo benissimo, vedo bene anche perché dopo tantissimi anni dove il turismo non era considerato così importante dalla politica, adesso tutti parlano di turismo. Quindi sono sicura che le cose avverranno, succederanno. Quindi sicuramente con i tempi che la politica e il governo hanno purtroppo a loro disposizione ci aiuteranno a far crescere in tutte le parti d'Italia il turismo. Perché Firenze è Firenze e lo è stata sempre e lo sarà probabilmente nei prossimi anni. Ma bisogna ricordarsi che arrivano mercati nuovi, che non sanno che cos'è magari così bene il rinascimento italiano e quindi forse certi plus che Firenze ha avuto forse non li avrà più. Però c'è tanta Italia da far conoscere. Quindi sicuramente questo è un tempo maturo, tanta Italia, anche tante regioni sono qua, alcune espongono, altre semplicemente portano qui le aziende perché così possono crescere e far sì che il territorio cresca di conseguenza. Grazie per essere stata con noi, alla prossima. Grazie a voi.